Hanno scelto l'area a ridosso del porto per incontrarsi e rendere pubbliche le loro preoccupazioni per il futuro. I pescatori di Capodorlando e la NAPI Pesca chiedono venga messa in discussione quella parte della convenzione tra il Comune e la società che sta realizzando l'opera per ampliare i numeri dei posti barca che saranno riservati alle imbarcazioni da pesca. Troppo pochi quei dieci ormeggi previsti nell'accordo ne reclamano almeno il doppio. Contestiamo questo numero assegnato come da convenzione che riteniamo che i dieci posti di ormeggi alla pesca professionale siano assolutamente insufficienti, che non rispecchiano la realtà produttiva della pesca orlandina ma non solo e anche di quelli che non sono orlandini ma che hanno sempre storicamente operato in questo territorio e che prima ormeggiavano da anni e anni nel vecchio porto di Capodorlando. Non poterete pensarci prima a portare avanti questa battaglia visto che tra un mese si apre? Sin dal 2010 avevo segnalato come associazione sindacale di categoria all'amministrazione comunale e all'ufficio tecnico avevo già ben segnalato l'esigenza reale della pesca professionale orlandina. La difficoltà sta nella tempistica visto che tra un mese il porto sarà fruibile ma i rappresentanti dei pescatori non perdono le speranze. Io penso che ci voglia un attimino di incontro per capire quali sono effettivamente le esigenze. C'è secondo lei ancora tempo per cambiarla questa convenzione? Io sono convinto di sì, basta sedersi attorno a un tavolo e vedere di che cosa dobbiamo parlare, di che cosa stiamo parlando. Cercare di non dare un numero di posti barca così come è previsto ma di dare una banchina con dei metri, con uno spazio lineare stabilito in metri in modo che i pescatori possano poi decidere in modo autonomo come ormeggiare.